Questa proposta di legge è molto bella e interessante per la Regione Campania. Si parla sempre di inquinamento, si parla di luoghi dei quali non è possibile più vivere. Ebbene, bisogna fare una mappatura, bisogna riconoscere dove in Regione Campania le pressioni ambientali legate alla presenza di industrie sono talmente forti da incidere sulle matrici ambientali, acqua, aria e terra, tanto da rendere impossibile e o insalubre la vita dei cittadini. La seconda cosa da fare è quella di esaminare i dati sulla salute dei cittadini, dati che nel tempo già sono stati numerose volte raccolti, vanno messi a sistema per comprendere lo stato di salute e quanto l'impatto della nuova azienda da questo momento in poi potrà sortire sulla salute dei cittadini. Non sarà semplice perché è molto più immediato imporre la presenza di un'azienda piuttosto che invece verificare dove è opportuno farla oppure dove è assolutamente sconsigliato insistere con attività che hanno un peso ambientale così forte. La legge è in commissione, spero che presto venga calendarizzata e raccoglieremo naturalmente i suggerimenti da ora in poi delle associazioni e dei cittadini che vogliono renderla più completa e più bella.